Ebbene sì, lo confesso, sono un fan assiduo del Collegio 5, tra l'altro ho seguito anche l'edizione 4 e qualcosa dell'edizione 3. Parlando del Collegio 5 mi è rimasto particolarmente impresso il personaggio di Piero, Andrea Di Piero, di Fiuggi, quel suo modo di comportarsi da onorevole in erba, da futuro politico italiano. E in particolare questa voce che mi ricorda anche un po' vagamente Giulio Andreotti bambino, diciamo. La scena che mi è rimasto particolarmente impressa è quella quando hanno tentato e sono poi riuscito a entrare nella sua camera, e lui si è molto arrabbiato, quindi ho immaginato insomma il suo modo di comportarsi. Ve l'ho detto tante volte, non dovete entrare nella mia camera, siete delle capre, siete delle capre, vergognatevi. Andreini vuole essere il primo, ma deve capire, non deve farne un'ossessione. Andreini, Andreini, basta, basta, con questo voglio essere primo, basta. Ecco, diciamo che più o meno ho immaginato così il suo modo di agire. Un saluto ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Un saluto ragazzi, ci vediamo la prossima.